ciao benvenuti cari amici di penelope andiamo oggi a vedere le previsioni per la settimana dall 11 al 17 luglio 2022 ho qui davanti a me tre mazzi di tarocchi quindi fai la sua scelta scegli un mazzetto ma butta un occhio te lo raccomando sempre anche agli altri due perché potrebbe essere che c'è più risposta negli altri che non in quello che tu hai scelto o più semplicemente puoi trovare un messaggio in più rivolto a te anche negli altri due il perché funzioni così non lo so ma è così ok primo mazzo di carte con l'avventurina verde secondo mazzo quarzo rosa terzo mazzo ametista i tempi per ciascun mazzetto li trovi giù nella descrizione di questo video così come anche il link per andare a vedere le carte che ho creato io e vedrai in questo video trovi giù tutto sotto nella descrizione io direi di partire subito andiamo a vedere cosa ci accadrà cosa ci aspetta per prossima settimana partiamo andiamo a vedere la settimana dell'avventurina verde lo mettiamo qua vediamo un attimo partiamo dagli oracoli e andiamo a vedere allora la settimana di tutti coloro che hanno scelto o l'avventurina verde settimana dell'avventurina verde come trascoglieranno la settimana ok ci sarà una partenza improvvisa quindi magari veramente partite andate da qualche parte qualcuno ti spia qualcuno è curioso di sapere che direi si sposa alla grande con la spia qualcuno vuol sapere qualcosa su di te vedi qualcuno ti spia perché è curioso di di sapere comunicazione in arrivo allora vediamo un pochino anche che c'era nel taglio c'è un fermo ok allora qui magari stai semplicemente vivendo un momento di fermo ma vada bene vista la stagione non escludo che qui ci stiamo parlando anche di vacanze quindi il fermo dai lavoro nel senso il fermo e la partenza da qualche parte non non lo escludo non lo escludo affatto comunque lo vediamo con i tarocchi lasciamo che siano loro che ci dicono un pochino più dettaglio ok comunque qui c'è qualcuno che ti ha messo gli occhi addosso che vuol sapere qualcosa su di te qui mi pare evidente le carte ce lo dicano qualcuno ti spia e vuol sapere un qualche cosa nello stesso modo ci potrebbe essere semplicemente qualcuno che ti racconterà qualcosa cioè te che tu verrai scome c'è una comunicazione in arrivo che tu verrai a sapere un qualche cosa quindi qui dei pettegolezzi delle chiacchiere che ti potrebbero arrivare all'orecchio ti potrebbero arrivare all'orecchio anche abbastanza in modo un qualcosa che che un tutto aspetti che tu vieni di cui tu verrai informato informata va bene quindi novità che ti arriveranno agli orecchi ma ci può essere anche un viaggio che tu dovrai fare o comunque uno spostamento uno spostamento che tu farai che tu andrà da qualche da qualche parte ma qui c'è proprio comunicazioni in arrivo le tarocchi ci diranno ci diranno ci diranno tutto settimana cominciamo la settimana del il papa la settimana dell'avventolina verde dall'11 al 17 luglio 2022 settimana il 5 di spade la giustizia capisco perché continuano a tirami mezzo ma ne voglio una per favore ok avventurina verde la settimana dall'11 al 17 luglio il 6 di coppe l'appeso è l'imperatore allora qui c'è qualcuno che è arrivata in capolinea ovviamente quindi non vedo nulla di improvviso di imprevedibile come vedo a volte no quindi qui state tranquilli e tranquille e quello che accade già già lo sapete già lo sapete allora qui c'è una chiusura del rapporto ma qui già si sapeva qui la fine magari se eravate in coppia già poteva già potrebbe essere arrivata cioè non è che succede in questa settimana la chiusura qui c'è un rapporto già chiuso e finito e ha portato tanto dolore tanto dispiacere anche perché non ce lo saremmo mai creduto qui c'è stato una coltellata praticamente che noi non ci si sapeva non ci si aspettava non avremmo mai non avremmo mai pensato comunque fatto è che qui ci può essere chi di voi non dico tutti ma chi di voi ha vissuto un momento del genere insomma io qui posso vedere proprio la separazione legale oppure anche che riguarda sempre questa separazione la comunicazione una comunicazione che riguarda che riguarda tutto ciò ok quindi sicuramente anche quello qui anche un contratto magari se avevate stipulato un contratto ad un qualche tipo qui vi potrebbe creare dei progetti è come in poche parole non voglio entra troppo nello specifico perché siamo in un interattivo insomma siamo tanti però qui c'è una situazione che si va che sia andata a me mi viene da dire andata come se qualcosa fosse già accaduto bloccando qui c'è una situazione bloccata con questa appesa ma ovviamente non solo lo dico per tutte le carte che può coinvolgere può riguardare questo signore questo imperatore capisci qui qui c'è stato io continuo a dire c'è stato non so perché mi parli nel passato ste arte sinceramente non lo so però mi parla nel passato qui potrei pure vedere che questo signore o comunque questa persona con cui abbiamo chiuso un rapporto sta attento lavorativo affettivo è un dei due va bene con cui abbiamo chiuso il rapporto potremmo venire a sapere qualcosa di questa persona ecco perché le arte cioè noi ci abbiamo già chiuso con questo tizio sto tizio di male c'è la belle che fatto quindi state tranquilli non vi succede secondo me poi però sempre piglia tutto con le pinze per l'amore di dio se ero dio e non c'era un ero terra ecco però qui c'è un qualcosa di cui verremo a sapere che potrebbe veramente riguardare questo personaggio questa persona uomo donna e tu sia è ok andiamo a vedere cos'altro per l'avventurina verde per la settimana ho fatto l'oroscopo per il mese di luglio e anche quello per l'intera estate 2022 per ogni segno zodiacale vattelo a vedere mi raccomando capito poi metti tutto insieme sicuramente tu troverai degli indizi qui c'è una comunicazione che ferisce capito una comunicazione che ferisce magari semplicemente un qualcosa che veniamo a sapere che insomma tanto piacere non ci fa non so vediamo cos'altro per l'avventurina verde vedi diciamo ti ha passato un momento migliore ecco ma guarda qui c'è un allontanamento ora qui potrebbe essere pure un allontanamento dal lavoro sinceramente eh qui ci potrebbe pure essere un allontanamento dal lavoro o comunque da questa persona dipende un pochino se la tua situazione personale di come tu sta messo ma non credo che non credo sia poi così un fulmine a ciel sereno sì ci si può rimanere male lo stesso ma non credo che sia un qualcosa che arriva di assolutamente assolutamente inaspettato io non lo penso fammi sapere nei commenti va bene mi raccomando allora vediamo un pochino con quali segni zodiacali tu avrai a che fare durante questa settimana allora qui c'è lo scorpione poi ce n'ho alcuni io in testa ma aspetto a dirli vediamo se me li danno loro con quali segni zodiacali avrai più a che fare vediamo così magari tu capisci anche di chi ti stanno parlando queste carte allora abbiamo detto scorpione pesci leone bilancia leone confermato il toro gemelli bilancia viene confermata ok il cancro il toro viene confermato i pesci confermati e aggiungiamo il segno del del capricorno va bene questi segni zodiacali che più mi escono in fuori guarda ormai ho visto anche lui aggiungo aggiungo l'acquario quindi qui c'è un momento di grandi cambiamenti di impasse sinceramente non qualche cosa ma comunicazioni importanti in arrivo che lasciano un po un po così che potrebbero riguardare una situazione ferma ferma o comunque finita finita in passato fammi sapere perché mi piace questa stessa ne voglio capire di più dimmi nei commenti che cosa tu stai vivendo e che cosa accadrà per te durante la settimana così mettiamo tutto insieme e ricordati di guardare l'oroscopo del tuo segno zodiacale del tuo ascendente che ti può aiutare anche a districare questa mafassa va bene andiamo a vedere gli altri mazzetti vediamo la settimana del quarzo rosa vediamo un po queste carte cosa ci dicono partiamo dai miei oracoli andiamo a vedere allora la settimana dall'undici al diciassette l'olio per il quarzo rosa cosa vivranno queste persone sempre la settimana c'è ora 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 ok ricchezza e lusso questa è una carta insomma penso sia chiaro no c'è un qualcosa in sol plus proprio bella bella andiamo a vedere guarda uscite e divertimenti in compagnia quindi wow fatti valere bella e sta carta io la adoro pensieri e sogni d'amore ora i 4 e 1 voglio però insomma allora andiamo a vedere qui si sono ribaltate poi vediamo con i tarocchi allora qui sicuramente qui sicuramente c'è lo dicono lo dicono le carte insomma chiare lettere con chiari parole poi ovviamente i tarocchi ora ci dovranno dire allora qui sicuramente ci sono delle uscite divertimenti in compagnia qui la carta insomma credo sia credo credo sia chiara ma qui tante tante uscite cioè qui ci si dà la pazza gioia durante la settimana ora vediamo ovviamente anche con i tarocchi capito quindi qui molto movimento insomma non ci faremo non ci faremo mancare nulla quello che vedo ci possono anche essere dei pensieri molto carini dei pensieri affettuosi che potremmo ricevere insomma nei nostri confronti ma anche un progetto un progetto un'idea un qualcosa che noi vorremmo realizzare che prenderà forma quindi non escludo per esempio se voi cercate lavoro qui tu lo potresti trovare se tu hai chiesto tu vorresti un aumento qui tu lo potresti avere va bene a fammi vedere per il quarzo rosa ok l'imperatrice che carta molto molto bellissima l'appeso che non è carta molto molto bellissima ma va bene andiamo a vedere settimana e l'imperatore ah ah cioè guarda come sono ora vediamo le altre vediamo come la va a finire ma qui c'è la coppia l'imperatrice e l'imperatore con l'appesone in mezzo quindi qui tu potresti vivere veramente un impasse con qualcuno però ci sono queste carte qui ora attenzione che vi spiego eh calmi ok qui c'è un impasse fra questa coppia c'è una coppia che sta attraversando insomma delle difficoltà che magari potrebbe essere in pausa vedi il bagatto infatti e qui nel cascate 200 e vabbè oi oi e vabbè si vedeci dove andi steosi il bagatto il matto la giustizia e il quattro di bastoni allora qui innanzitutto la prima cosa ti voglio dire c'è qualcuno che si sposa io chi li è non lo so però non è detto tu sia te assolutamente però qui ci potrebbe essere vedi proprio un matrimonio magari questa è una delle cose a cui tu parteciperai comunque qui ci può essere un matrimonio di qualche di qualche d'uno però guarda qui mi va gli occhi proprio qui su questa coppia su questa coppia con questa appesone in mezzo quindi qui c'è una coppia questo è imperatrice e imperatore che stanno passando un brutto momento c'è qualcosa di fermo fra di loro stanno vivendo magari una crisi un distacco eccetera vi fai vedere cos'è quella appeso cos'è quella appeso per il quarzo rosa vedi guarda 8 di coppe 5 di coppe come parla allucinante allucinante qui c'è stato c'è c'è in ballo un allontanamento fra queste due persone qui si sta facendo si è fatto insomma un passo indietro si è fatto un passo indietro lui o lei insomma in questa in questa coppia ci siamo allontanati ci siamo allontanati però qui c'è un qualcosa questa situazione appunto di questa coppia qui si potrebbe risanare qui si potrebbe risanare ci può essere questa persona che o si pente o comunque cercherà di risanare questo rapporto cioè c'è una svolta improvvisa capito una svolta improvvisa fra queste due persone si potrebbe ristabilire una certa una certa armonia un certo equilibrio cioè in altre parole qui le cose si aggiustano si aggiustano fra queste due persone ecco qui c'è una novità un qualcosa di di nuovo va bene io qui vedo intervenire anche una terza persona che magari cercherà di riavvicinare capito non voglio dire faccia da pacere però magari che dà dei consigli magari un amico comune o un genitore ma dai ma che ha fatto che fa cioè capito ecco qui tu potresti ricevere o fare magari tu la puoi anche fare se una telefonata per vedere di ecco capito sia che tu sia te una di queste due persone sia che riguardi queste due persone e te tu sei magari potresti essere la persona che interviene che interviene nel senso che cerca di mettere un po' la buona parola non so come è meglio spiegarmi capito andiamo a vedere qui c'è uno sblocco di questa di questa situazione per queste due persone ma oltre a tutto quello che ti ho detto che ti sto dicendo io quello che vedo qui ci vedo un lavoro io ci vedo un lavoro quindi se un tu lavori e tu lo cerchi qui il lavoro tu lo puoi veramente trovare anche in modo abbastanza inaspettato magari un tu te lo credi proprio e invece e c'è sì sì qui c'è la realizzazione di un sogno qui c'è la realizzazione di un sogno quindi al di là che si può sistemare questo rapporto di cui ti parlavo ma qui si realizza un sogno anche lavorativo secondo me qui tu potresti firmare un contratto per un lavoro anche a tempo indeterminato non lo escludo affatto e se non è indeterminato è abbastanza un qualcosa di stabile perché ti vedo contento o contenta qui c'è un lavoro non solo ti dirò telefonata carina questo tentativo qualcuno insomma per riavvicinare queste due persone ma qui specialmente se tu sei donna tu potresti conoscere anche un altro durante questa settimana ci potrebbe essere una nuova conoscenza che ti potrebbe intrigare parecchio ti potrebbe piacere parecchio ok se tu cerchi lavoro sicuramente qui tu lo trovi perché ti vedo firmare un contratto sicché ma se già tu lavori ci potrebbe essere un avanzamento di carriera un aumento di stipendio capisci qui c'è una comunicazione c'è una novità molto molto positiva molto molto positiva per te capito comunicazioni che arrivano da un uomo da questo ready hop che ti riempiranno sicuramente di gioia qui tu ti farà valere vai ti preoccupa a quarzo rosa una settimana da come era cominciata a vedere questo appeso capisci però può darsi sia questa situazione fra queste due persone che va poi come ti stavo dicendo a migliorare va poi a riequilibrarsi a sistemarsi e comunque sia ci sarà questo tentativo diciamo capito di 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 uscire ma qui c'è di tutto un po' durante questa settimana che io vedo molto molto positiva al di là di questo inizio comunque di questa situazione un pochino appesa a un filo però qui poi tutte le cose vanno vanno in meglio in special modo per il lavoro per il lavoro se tu ce l'hai migliora e se non tu ce l'hai tu lo trovi che meglio di o si fammi sapere è che tu combini i suoi commenti capito quarzo rosa vediamo i segni zodiacali magari ci aiutano a capire un po' con chi e come tu avrai a che fare va bene dai segni zodiacali tu puoi capire di chi ti stanno parlando le carte insomma vediamo un po' allora il quarzo rosa segno dei pesci sagittario la vergine il leone lo scorpione il sagittario viene confermato i gemelli un altro segno e basta va bene ok questo no l'ariete e l'acquario bene questi segni zodiacali più 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 quindi vedi un attimino di chi ti stanno parlando di chi ti hanno parlato queste carte ricordati di dirmi giù nei commenti insomma che cosa tu vivi che cosa tu stai vivendo va bene andiamo a vedere adesso l'altro mazzetto andiamo andiamo a vedere la settimana per l'ametista vediamo che cosa ci racconteranno queste carte partiamo come sempre dagli oracoli che come vedi sono miei li ho creati io allora andiamo a vedere la settimana per l'ametista settimana 11 17 luglio per l'ametista sarà fatta chiarezza qualcuno ti sbarra la strada te le faccio vedere vedi questa carta richiama il sole questa bambina che proprio va verso il sole e qualcuno ti sbarra la strada quindi qui c'è qualcuno o che tenderà a volerti fare sgambetto o comunque suo malgrado insomma potrebbe mettersi sul tuo cammino vedi il cammino viene fuori la strada sei sulla strada giusta e non ne tiro più ma allora qui c'è un percorso che sicuramente poi ora vediamo naturalmente sarò chiuso dicono qui le carte ti vedono semplicemente indirizzato indirizzata verso una meta dritto dritta come fiume dove lì tu vuoi arrivare vedi tu sei sulla strada giusta quindi qui tu hai intrapreso tu hai intrapreso già un qualche cosa ma guarda qui c'è qualcuno senz'altro che ti potrebbe sbarare per esempio tu vorresti entrare a lavorare sto sparando al cinema sotto casa alla biglietteria ma c'è un altro che vuole nella stessa posizione quindi qui insomma tu c'è un concorrente in poi parole ora mettilo se abbinalo se alla tua vita a quello di cui ti stanno parlando queste carte per te personalmente va bene ma anche qui posso vedere da queste carte siccome c'è questa chiarezza ci potrebbe anche essere un qualcosa che potrebbe vederti indeciso indecisa su qualcosa che ancora diciamo così o qualcosa che ancora nonostante la chiarezza nonostante tu abbia visto tu sappia com'è la situazione ancora ti vede indeciso se proseguire su questa strada o no o più semplicemente c'è ancora un qualcosa che non ti è abbastanza chiaro per proseguire su questa strada intrapresa non so se mi sto spiegando capito vediamo i tarocchi cosa dicono ametista 11 17 luglio 2022 per l'ametista ok ok qui sono volate subito due carte la regina di bastoni il nove di coppe il papa oh mamma allora settimana dall'11 al 17 luglio il quattro di bastoni belle ora lo posso dire belle 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 arte e il sette di denari nel taglio c'è il cavaliere il cavaliere o il cavallo che dir si voglia di bastoni eccola là e infatti ma guarda qui se tu sei lì che tu ti fai delle pippe qui e là e sì e no e su e giù insomma qui da queste carte tu potresti veramente andare a tutta anche perché come se arrivasse proprio vedi un chiarimento ulteriore qui c'è un qualcosa verrà fatta chiarezza sicuramente quindi una volta ricevuta avuta questa chiarezza che possono essere notizie informazioni in più capito qui veramente tu potresti andare dritto proprio come un treno e io ti vedo andare come un treno perché qui c'è una grande soddisfazione una vittoria se vuoi di un qualche tipo vittoria per esempio se tu studi è un esame superato alla grande per esempio capito ecco se tu devi pubblicare un libro tu lo pubblici capito ecco e qui fanno vedere proprio una a parte che la strada che tu hai intrapreso è proprio quella giusta anche perché qui vedo arrivare per te delle bellissime soddisfazioni durante questa settimana se vuoi anche abbastanza improvvise non dico imprevedibili perché qui c'è un lavoro che tu sta facendo e che ti ha fatto non è un qualcosa che piove dai cielo capisci quello che veda arrivare tutto lo s'ha meritato t'ha lavorato lavorato in tutti i sensi che sia lavoro lavoro t'ha lavorato nel senso tu hai fatto non è che tu sei lì a aspettare che ti piove qualcosa dai tetto capisci ecco quindi una bella soddisfazione una bella vittoria anche un riconoscimento se tu vuoi capito quindi qui tu potresti vincere un concorso tu potresti ricevere una comunicazione wow un esame una laurea una laurea il lavoro qui c'è anche il lavoro che ti potrebbe dare delle bellissime soddisfazioni qui ci può essere anche durante la settimana delle trattative magari sul luogo di lavoro ti avrà delle trattative per un qualche cosa e via discorrendo guarda che sono carte molto molto belle se hai litigato con qualcuno tu potresti sicuramente fare pace puoi fare un viaggio qui c'è un viaggio uno spostamento tu vado a qualche parte ci sono dei divertimenti perché qui vedo una scena una o più di una con più persone una festa una scena cioè ti vedo seduta o seduta a un tavolo insieme a tante persone capito quindi qui qualcosa di questo qualcosa di questo tipo qui c'è anche un giovanotto che ti gira intorno se tu sei uomo tu sei te che tu giri intorno a questa ragazza che tu vedi molto bella molto carina molto affidabile anche non so se è una morettina o una rossa capito quindi se tu sei una donna ecco qui vedo ti vedo proprio corteggiata cioè c'è questo ragazzo che insisteranno un po' insomma per averti per portarti fuori diciamo che durante la settimana metista tu ti toglierà le tue soddisfazioni però in qualche modo tu ti devi scrollare un po' di rosso questa insicurezza questa insicurezza questa incertezza lo faccio lo faccio ma sì ma no è qui è là è boom boom bam ok guarda potrebbe pure essere che te tu pensi a qualcosa a qualcosa a qualcuno e invece tu tu vai mi spiego meglio qui tu potresti anche avere due strade in ballo che siano due persone che ti piacciono che siano due lavori che siano due cose che tu devi fare te tu c'hai magari la testa su questa cosa e invece tu farai l'altra non so se mi spiego tipo mi piace mi piace mi piace però mi garba tizio voglio uscire con tizio tizio sicuramente mi chiama mi porta fuori oddio e invece si fa vivo caio tesci con caio e addio so se mi sto spiegando cioè come se tu avessi proprio ecco questo switch diciamo comunque qui una settimana molto positiva che vedrà dei denari senza altro arrivare qui ci sono anche dei soldi che arrivano vedo la tua tranquillità la tua tranquillità la tua serenità durante questa settimana c'è anche un chiarimento con qualcuno qualcuno che si fa vivo che ti chiama ok su il lavoro o se tu studi o comunque nel tuo ambiente qui vedo ci sarà un giudizio molto molto positivo per te sul di te capisci quindi che sia sul lavoro che sia negli studi che sia con gli altri insomma un periodo che ti vede molto apprezzata come persona apprezzata apprezzato eh io parlo agli uomini e alle donne belle belle carte belle carte quindi può arrivare anche un consiglio un consiglio un aiuto un consiglio un aiuto da parte di una persona che a quanto pare a quanto sembra ti ha anche a cuore eh una persona di cui tu ti puoi fidare che sia un amico caro una persona colta capito che ti può dare un buon consiglio se tu ti rivolgi a questa persona un sostegno un aiuto ad arrivare il dottor vuoi arrivare i denari in arrivo se l'ho detto vediamo un po' segni zodiacali magari tu capisci di chi ti parlano per l'ametista allora segno del cancro acquario pesci bilancia bilancia leone il toro il capricorno tiriamone un'altra l'acquario l'acquario l'ho detto si viene subito confermato i pesci li abbiamo detti no e quindi ve li dico adesso li aggiungiamo adesso toro bilancia ah si pesci vengono confermati non l'avevo visti toro bilancia pesci acquario leone cancro capricorno questi segni più evidenti poi come vi dico sempre comunque sia comunque sia quello che fa fede è comunque la stesa è nella stesa che vi dovete ritrovare comunque comunicazioni che arrivano molto molto importanti un giudizio positivo quindi se ti devi laureare se devi fare un concorso se devi fare un esame vai alla grande vai alla grande ecco devi vincere un po' questa cosa questa indecisione eccetera eccetera però ecco sicuramente qui potrebbe anche essere una settimana in cui ti si chiariranno le idee magari avevi due strade come ti ho detto prima che si tratti d'amore di lavoro di studio di che ti pare due strade davanti tu potresti decidere quali delle due intraprendere anche un qualcosa di questo tipo ma dimmelo giù nei commenti capito perché tanto io ti leggo va bene ametista una felice settimana anche a te ti aspetto ovviamente sempre qua al mio prossimo video e divertiti mi raccomando non fare la brava fai di tutto e di più no dai scherzo dai un bacione al prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei no a